In Spagna dicono pidio giustizia, Martina non ce l'ha avuta, in Italia chiediamo giustizia. Non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e per questo continuano a chiedere giustizia ai genitori di Martina Rossi, la giovane studentessa a Ligure morta precipitando da un balcone di un hotel a Palma de Mallorca nell'agosto 2011. Bruno e Franca Rossi questa mattina erano come sempre presenti ad Arezzo per l'udienza preliminare di fronte al GIP. Pier Giorgio Ponticelli, nel corso della quale sono stati depositati nuovi documenti richiesti della difesa dei due giovani aretini accusati di morte come conseguenza di un altro reato, ossia la tentata violenza sessuale. Si tratta delle trascrizioni di intercettazioni ambientali del 3 e dell'8 febbraio 2012, registrate nella caserma di Genova quando vennero interrogate prima le due ragazze amiche di Martina e poi altri due giovani, amici dei due imputati ed accusati di false dichiarazioni al PM. Tutti e quattro si trovavano in vacanza a Palma de Mallorca. L'intercettazione si blocca, secondo il consulente tecnico, a un'ora, tre minuti e ventisei secondi. Invece la durata è un'ora, undici minuti e quarantacinque secondi. Il nostro consulente ha rilevato in quei cinque minuti delle frasi di particolare interesse. Abbiamo depositato un dossier di 95 fotografie relative all'operazione di estimulazione, alle quali come difensore ero personalmente presente, che riteniamo di interesse in vista poi della discussione finale. La prossima udienza è stata fissata per il 21 novembre, in quella data il GIP dovrà decidere se mandare a processo i due giovani aretini. Noi siamo certamente certi, convinti, che vi siano sovrabbondanza di elementi per fare un giudizio prognostico di utilità del dibattimento e quindi confidiamo in un rinviaggiudizio.